Doppio colpo dalla Fiorentina, il Napoli fa sul serio. Uno scudetto da difendere obbliga De Laurentiis ad investire sul mercato per rinforzare i vari reparti ed esaudire le richieste di Rudi Garcia. In attacco, la speranza dei tifosi e del mister è quella di dover cambiare poco, anzi pochissimo, e poter contare ancora Sosimena e Quarashcheglia. In difese a centrocampo, invece, non sarà rivoluzione, ma ci saranno dei cambi. Ndombele è tornato al Tottenham, Kim verrà presto ufficializzato al Bayern Monaco, mentre Edem e Zilischi potrebbero partire in questa finestra di mercato. De Laurentiis starebbe pensando proprio a come sostituire Kim e Zilischi. L'intenzione del presidente è quella di bussare alla porta di commisso. Sono ben due i calciatori della Fiorentina che piacciono al Napoli, Milenkovic per il dopo Kim e Castrovilli per il dopo Zilischi. Castrovilli ha il contratto in scadenza nel 2024. La trattativa per il rinnovo con la Fiorentina è aperta, ma la distanza tra offerte e richieste è tanta, e commisso potrebbe decidere di cederlo ora per monetizzare il più possibile. L'italiano sarebbe il sostituto perfetto del polacco per caratteristiche e posizione in campo. Milenkovic è pronto per il salto in una big del nostro campionato, dopo 182 presenze in Serie A con la Fiorentina. Su di lui però ci sono anche altre big e De Laurentiis dovrà fare in fretta. Vi piacerebbe vederli al Napoli?